Mirko, quanti gradi sono in pista? Abbiamo visto che stavi facendo i rilevamenti. Attualmente all'area abbiamo 33 gradi come temperatura e al suolo intorno ai 44-45 gradi. Il grip della pista qua com'è per le gomme? È un circuito con poco grip, delle strade veramente da città, per cui per fortuna abbiamo le gomme Michelin e Pallosporti P2. Ciao!